torna nello splendido scenario di torrette di fano motori al mare l'evento organizzato da torrette promotion dedicato ai mezzi d'epoca e moderni a quattro e due ruote l'evento in programma il primo di maggio arriva alla sua dodicesima edizione e riprende il suo normale svolgimento dopo due anni di stop dovuti al covid ricco il programma visibile anche sulla pagina facebook che vede momenti di convivialità gite panoramiche degustazioni di prodotti locali e tanta musica il nostro programma diciamo di trovarsi lì a torrette sul lungomare dove praticamente faremo colazione insieme dove ci sarà la possibilità di avere anche un gadget da parte nostra ci saranno delle auto d'epoca molto belle ci saranno delle moto belle delle vespa il tutto verrà poi diciamo condito dalla dalla amicizia dal fatto di poter stare insieme finalmente una bellissima località sul mare che quindi avremo che diciamo così una bella bel posto dove stare questo poi ci consentirà di fare un giretto andremo a fare un piccolo aperitivo su dalla cantina bruscia di san costanzo dopodiché torneremo a torrette facendo un giro ver per marotta e lì di nuovo ci si rifermerà poi avremo la possibilità di pranzare insieme ci saranno dei riconoscimenti ci saranno delle coppe nel pomeriggio dalle ore 15 ci sarà anche la possibilità per le famiglie di poter far diventare loro bambini perché ci sarà l'animazione fatta apposta per loro poi dopo di che ci sarà un concerto dove ascolteremo della buona musica il tutto per dare la possibilità di passare una bella giornata nella nostra bella località di torrette di fano vicino al mare dove ci sono delle spiagge bellissime tante le adesioni finora ricevute per una giornata dedicata ai motori ma soprattutto alle bellezze del nostro territorio tra mare e colline certamente il nostro invito è quello che tutti possono venire a fare un giretto a torrette di fano quella giornata quindi siete tutti benvenuti